Dove sono? Dobbiamo andare. È tardissimo. È tardissimo. Arriva Mario, guardalo. Ciao Mario. Ciao, ciao. Oh, siamo pronti ragazzi. Tra poco inizia Bianco Blu TV. Dobbiamo andare subito, dai. Ma Riccardo dov'è? Il solito, il solito Riccardo. Sempre in ritardo. Arrivo, arrivo, arrivo. Andiamo in trasmissione. Andri, vieni che andiamo. Eccoci. È bella sta macchina, mi piace un sacco. Ciao a tutti e ben ritrovati. Vi presento in diretta la trentunesima puntata di Bianco Blu TV. Vi presento subito anche i nostri tre ospiti che sono in studio con noi. Il Jolly del Como 1907, Alessio Iovine. Ben ritrovato. Grazie. Ben ritrovato anche al vice allenatore della Pallacanestro Cantu, Massimiliano Oldoini. Grazie. E benvenuto anche ad Angelo Taglieri, giornalista di Como TV. Ciao a tutti e grazie. Grazie per essere qui con noi negli studi di Labor Project e Labor Medical. Qui con noi in studio c'è anche, come sempre, la nostra Serena Moscatelli. Grazie a tutti, grazie Gaia. E i giornalisti Mario Camagna e Riccardo Bianchi. Grazie, Gaia. Come sempre parleremo delle due squadre Bianco e Blu, Como e Cantu, con Iovine del finale di stagione, con Olderini del prossimo turno horologio e dei pre-off imminenti che inizieranno a maggio. E con Angelo Taglieri, volto di Como TV, sentiremo i segreti del Como e anche del calciomercato che è un esperto. Benissimo. Bene, poi parleremo di questa fase horologio che veramente è solo il basket. che potevano inventarla, perché è una cosa molto curiosa, però mi piacerebbe anche... Te la devono spiegare, però sarebbe bello fase dell'orologio tra i tre gironi della serie C, sarebbe un... Non lo so. Però la serie C se l'è già scoperta, non ci pensa più. Non ci pensi più. No, ti immagini i tifosi del calcio stanno lì a studiare la fase dell'orologio, no, impazzirebbero tutti, poi nel basket sono già più matematici, molti ci sono già arrivati. Ma veniamo subito alle cose concrete. Come Cittadella, peccato, è andata male, adesso c'è un po' di agitazione tra i tifosi, ma come finiamo bene questo campionato? No, no, beh, ovviamente l'intenzione di tutti è quella di finire bene il campionato. Purtroppo in questi tre giorni, quattro giorni, sono arrivate queste due sconfitte, che ci stanno, ovviamente. Mi dispiace soprattutto per la partita di Parma, perché comunque è stata una partita ben interpretata, nonostante le difficoltà del caso, che poi in qualche modo sono riusciti a riprendere loro quando sembrava destinata a noi. Poi invece la partita di sabato con Cittadella, secondo me, è stata diversa. Per me non sono mancati stimoli o situazioni strane da parte nostra, abbiamo dato tutto, ovviamente. Ci sono anche gli avversari, sapevamo benissimo che di questo trittico di partite, sai, giocare con Monza, con Parma, gli stimoli vengono da sé. Giocare con Cittadella, con una squadra organizzata, una squadra rognosa, che comunque gioca anche bene, gioca un po' il calcio, sapevamo che sarebbe stato molto complicato, purtroppo è arrivata questa sconfitta, però sicuramente mancano ancora quattro partite e l'obiettivo nostro è di cercare di vincere tutti. Ecco, coach Odoidi, le motivazioni nello sport sono alla base? Sono fondamentali, perché comunque le stagioni sono lunghe, sono intense e si cerca sempre di fare il miglior risultato possibile. Noi adesso abbiamo finito la stagione regolare con 21 vittorie e 5 sconfitte, ma non basta. Quindi dobbiamo ancora scavare dentro di noi per poter riuscire a centrare l'obiettivo finale. Angelo Talieri, tu ci sei sempre a seguire il Como, la tua analisi sulla gara di sabato e sul campionato del Como? Il campionato è la grande, perché se una squadra deve raggiungere la salvezza, deve raggiungere con 6 giornate d'anticipo, non c'è niente da dire. È una squadra che sorprende sempre, perché si riscopre forte ogni partita, nonostante le difficoltà, perché le essenze sono sempre tante. Contro il Cittadella ci sta una sconfitta. Il nostro regista Danilo Fasolino direbbe che è una squadra perniciosa, in Serie B ci sono squadre difficili da affrontare. Il Cittadella è una di queste, uomo contro uomo, tutta la partita ti complica un po' i piani. Il Vento è stato un avversario del Como domenica, perché ce l'aveva contro, però non ce l'aveva favore, perché il Vento di fatto poi è cessato il secondo tempo. Però ripeto, è una squadra che ha fatto il suo sorprendendo tanti, perché le critiche inizio stagione erano davvero tante, c'era un po' di scetticismo, invece è una squadra che ha risposto alla grande partendo dal ragazzo che è qui alla mia sinistra. Ecco, Joven, che campionato, che bilancio puoi fare sul tuo bilancio personale? Quando sei sotto la doccia dici, com'è andato quest'anno? No, quando sono sotto la doccia non mi faccio questi pensieri, penso ad altro. Però, no, devo dirti che è stata una bellissima esperienza, è stata veramente una bellissima esperienza. Adesso, tornando indietro, due anni fa, se mi avessero detto guarda che vai a giocare in Serie B e ti diverti, nonostante... E giocherai, e segnerai. Sì, sì. E nonostante comunque la categoria di avversari, non ci avrei creduto più di tanto. Invece è proprio tutto bello. Dal fatto di giocare contro gente che ha calcato i campi della Serie A fino all'altro ieri, ma anche proprio a vivere la settimana, studiare l'avversario in un altro modo, giocare in stadi completamente diversi con pubblico, perché comunque nell'ultimo anno e mezzo il pubblico non c'è più stato ed è stata veramente dura per noi giocatori. Quindi sono tante cose. Sono contento ovviamente perché penso che sia io personalmente che i miei compagni di squadra che hanno fatto un percorso simile al mio hanno dimostrato che comunque in questa categoria ci possiamo stare. Quindi ovviamente sono contento e basta. Adesso appunto cerchiamo di finire bene l'anno e poi di valutare. E con tutto il gruppo, poi ti lascio, tutto il gruppo che è rimasto dalla C e che è rimasto in via ha dimostrato di poterci stare. Non è una cosa... Sì, sì, assolutamente. No, poi mi preme anche aggiungere il fatto che oltre alle qualità di ognuno di noi si è formato in questi tre anni, da quando ci sono io, si è formato veramente un qualcosa che è difficile da spiegare nel gruppo squadra. E siccome comunque a calcio si gioca in undici, fa tanto questa cosa. Lo dicono tutti i nuovi che arrivano, che si trovano... Sì, sì, ti plasma, ti tendi a dare qualcosa in più. Quando sei in difficoltà sai che comunque c'è il compagno che sei sicuro al 100% che corre per te, che magari sistema l'errore che hai fatto te. Quindi è tutto più facile, è più facile giocare in questo modo e ti viene ancora più voglia di cercare di aiutare la squadra. Bene, torniamo al basket. Ieri Cantu ha vinto. Andiamo la parola a Serena. Sì, buonasera a tutti. Ieri Cantu ha vinto il 78-70 contro Trevino in casa al Paladesio. Tiene data la classifica Udine, il secondo posto occupato dai Canturini, mentre il terzo posto viene occupato da Pistoia. Ieri nel post-gara ha intervistato l'ala centro della San Bernardo Cantu, Giardin Bagliari guardiamo la sua intervista. Buonasera a tutti amici di Sportcom. Si chiude con una vittoria a favore dei Canturini, 78-70 che vincono contro Treviglio questa sera qui al Palavancadisio. Sono qui in compagnia di Jordan Bagliese. Ciao Jordan. Ciao a tutti. Bellissima vittoria questa sera qui. Ti chiedo subito un commento in merito a questo match. Fare un commento in generale sulla prima parte del campionato. Abbiamo fatto una buona prima parte del campionato con tante difficoltà, però non ci siamo resi. Adesso in sera è un altro campionato molto difficile, molto intenso. Partite dentro o fuori. Speriamo di divertirsi e arrivare fino in fondo per vincere. Quello è l'obiettivo. Allora, Udine, avete vinto contro Udine giovedì con il recupero della 22esima giornata di campionato. Udine però oggi ha vinto contro Zinuavi, quindi si ritrova ancora in testa alla classifica. Ti aspettavi di vincere contro Udine giovedì? Siamo andati lì per vincere perché comunque vincendo lì se Udine avrebbe perso oggi sarebbe stata una bella cosa per noi. Visto che non è il caso, ci sono altre quattro partite della fase all'orologio e siamo lì dietro e aspettiamo un passo falso loro per prendere la terza e la partita. Quindi qual è il vostro obiettivo per questo campionato di Arabia 2? Vincere. Vincere e passare in Serie A 1. Rieccoci in studio, sempre ieri nel post partita il nostro opinionista Mario Nicolini ha fatto un commento sulla gara ascoltiamo il suo servizio. Ecco, direi che chiudiamo al meglio questa stagione regolare conoscendo il valore anche morale di questa squadra sapevo che avrebbe avuto dentro tanta rabbia per le due sconfitte che aveva saputo infliggerci Treviglio soprattutto nella gara d'andata molto dolorosa con dei fischi veramente strani quindi oggi abbiamo messo in campo tutta la rabbia che avevamo accumulato nella partita di andata e direi che per 30 minuti abbiamo giocato la partita perfetta dando una lezione di palacanestro ai nostri avversari dopodiché ci sono state delle iniziative individuali da parte loro che li hanno riportati un po' sotto ma siamo stati proprio bravi a non scomporci adesso è finita la stagione regolare siamo secondi, siamo carichissimi ci prendiamo una settimana di pausa e domenica prossima saremo già in campo per la fase orologio a presto Eccoci rientrati in studio guardiamo subito lo schemino che va a rappresentare le quattro gare della fase orologio abbiamo il 16 aprile alle ore 18 Fabriano Cantù il 20 aprile in casa si giocherà Cantù chiusi il 24 aprile sempre alle ore 18 in trasferta contro Scafati mentre si rientrerà con l'ultima gara di questa fase orologio il primo maggio contro Ravenna andiamo subito da Massimiliano buonasera Massimiliano ciao cosa prevede questa fase orologio del campionato di A2 e cosa ti aspetti dalla San Bernardo Cantù? allora intanto si fa veloce guardiamo subito la nostra fase orologio per spiegare un pochettino noi adesso affronteremo quattro partite quindi non c'è andate e ritorno c'è solo un turno e giochiamo praticamente con le squadre dell'altro girone con la prima e l'ultima in trasferta e con la terza e la quarta in casa quindi avremo subito Fabriano che è arrivata ultima nell'altro girone poi giochiamo in casa con Chiusi poi a Scafati e poi in casa con Ravenna praticamente quando si vince si portano dietro i punti e quindi poi alla fine si aggiorna la classifica esatto che la classifica non è definitiva attualmente perché si guida il girone di ritorno però ci sono ancora queste quattro fasi orologio tutti giocano quattro partite esatto e alla fine si vede e pesano sicuramente sì sì pesano ma sono importanti perché noi siamo a due punti dal primo posto e Pistoia a due punti da noi dal secondo quindi noi dobbiamo sempre vincere e sperare che qualcuno altro perda in modo da poter riuscire anche arrivare primi partire come prima nei playoff anche perché Alessio, se ho ben capito Udine è una delle squadre più forti del competitor di Cantù se arrivano primo e secondo non si incontrano nel proprio girone perché poi le squadre vengono divise in altri due gironi e questi due gironi la vincente le due vincenti vanno in sì praticamente mi sembra di capire che è un prolungamento del campionato visto che vengono ancora i punti hai la possibilità ancora di arrivare prima esatto hanno allungato anche perché se non una squadra giocherebbe 13 partite 14 partite chiaramente non è anche il campionato che per i tifosi fossero stati gli abbonamenti la stagione regolare hanno portato queste prima c'erano solo i playoff adesso c'è anche questa fase a orologio però ecco anche in questo momento forse in questo momento di difficoltà col covid così forse si potrebbe tagliare un po' esatto si potrebbe tagliare un pochettino anche perché i tifosi aspettano i playoff sì che è la cosa più importante speriamo di arrivarci bene tra l'altro a maggio i playoff rientrano anche l'Igos quindi primo maggio da ieri comunque c'è stato più pubblico esatto e la spinta c'è stata bene ci fermiamo a 30 secondi poi di nuovo in studio grazie a tutti Ecco, rieccoci in studio passiamo alle domande da casa Enrico chiede ad Alessio qual è il giocatore che ti ha dato più filo da torcere e se sai già se il ritiro precampionato sarà Bormio Allora, ritiro precampionato ovviamente non so nulla anche perché la stagione è ancora abbastanza lunga mentre mi pare di aver già risposto tra l'altro alla domanda del calciatore che mi ha più impressionato dico proprio a livello generale Palassio perché oltre al giocatore che è ancora che va veramente forte ancora nonostante i 40 anni infatti mi ha fatto sentire vecchio è proprio esemplare a livello comportamentale in tutte e due le partite non ha detto una parola fuori posto è sempre stato disponibile ovviamente siamo andati a chiedergli la maglia in tanti ha cercato di di soddisfare un po' tutti quindi sicuramente lui è l'esempio perfetto di giocatore professionista che è esemplare che anche in Serie A faceva comunque la differenza quindi lui mi ha impressionato tanto poi vabbè ovviamente devo dire anche Buffon che ovviamente è stato uno dei miei idoli da bambino vado a guardare di più vado a guardare di più il lato comportamentale lui ha aspettato tutti nel sottopassaggio di lì a Coma a Senigallia nella partita dell'andata e ha dato una pacca a tutti quindi si è comportato veramente bene comunque sa la figura che è e quindi anche una semplice pacca a uno come me diciamo è un grande campione anche fuori dal campo almeno con noi personalmente posso solo parlarne bene e invece Riccardo Castiglione dice che è passato a Sant'Elia e ha detto che dobbiamo tornare dopo la fine del campionato con una vittoria con un gol del numero 6 riusciamo a fare almeno uno di questi due obiettivi? Sicuramente torniamo al Sant'Elia quindi quello lì è più facile andiamo a salutare tutti gli ex professori e ci beviamo una Coca Cola insieme speriamo dai di concludere bene visto che dopo la prima giornata mi sono fermato quindi sicuramente sì e poi chiede anche quale fra i tuoi compagni ti resta in squadra di quelli in prestito? si può dire tutti non si può dire no no allora a livello di campo comunque hanno dato tanto tutti secondo me anche questo in parte lo dobbiamo al gruppo che si è creato da noi perché comunque chi arriva sta bene chi arriva da sempre il meglio di sé molti fanno delle stagioni migliori qui con noi quindi sicuramente qualcosa di buono l'abbiamo fatto anche noi dalla vecchia guardia è normale che sai in un anno ti vedi tutti i giorni quindi si instaurano anche rapporti personali cioè stretti io veramente li terrai tutti è normale che sappiamo benissimo che ogni anno le cose cambiano ci sono i soliti cambi cioè chi entra chi esce fa parte del calcio si cerca sempre di rimanere in contatto e basta quindi vedremo vedremo un po' come andranno queste settimane qua certo grazie ecco Angelo Taglieri tu che segui con attenzione tutti i ragazzi e tutto noi lo diciamo però tu che vivi all'interno è vero tutti quelli che sono arrivati vogliono rimanere quelli in prestito sì vogliono rimanere l'ultimo Ciciretti che l'abbiamo intervistato dopo il gran gol che ha fatto contro il Cittadella l'ho detto più volte io qua sto benissimo lui è uno di quei giocatori in prestito però è chiaro che se arriva con la testa giusta come è arrivato a Como può fare la differenza perché è una qualità tecnica fuori categoria quasi in Serie B però è vero evidentemente sono bravi loro cioè parlo di loro nel senso Jovine Gabrielloni Facchin questi giocatori che hanno Bellemo Arrigoni che hanno costruito diciamo la promozione dalla C alla B e che sono stati bravissimi ad accogliere giocatori come Alberto Cerri che aveva un'esperienza completamente differente come Nino Lagumina che è un'esperienza completamente differente giocatori che arrivano dalla Serie A e che sono stati acquistati dal club importante di Serie A come Cagliari e Sampdoria quindi il segreto di questa squadra è il gruppo ha fatto la differenza la passata stagione in momenti un po' difficili come magari sul termine della scorsa stagione che è arrivato lo slancio finale vincendo contro l'Alessandria ma anche nel girone magari inizio il girone di ritorno dove la vittoria tardava un po' ad arrivare il gruppo ha fatto sicuramente la differenza e ripeto da sottolineare la bravura di chi c'era già da prima ad accogliere i nuovi perché faccio un esempio in qualsiasi gruppo gli attaccanti magari si guardano sempre con un po' di invidia lui segna l'altro non segna invece sto vedendo tra Ettore Gliozzi Gabrielloni Cherry e Nino che sono tutti uno in fianco all'altro non è un caso che uno abbia fatto 9 gol gli altri 2 8 e Gabri 4 ma se non gli annullavano i due contro il Crotone erano 6 quindi questo significa qualcosa e lo si vede in campo tu sei un grande esperto di calciomercato che calciomercato sarà quest'anno? sarà un calciomercato strano prima tra l'altro stavamo parlando di un giocatore del Como come magari Luca Vignali che è in prestito dallo Spezia lo Spezia non può fare mercato quindi ci penserà un po' se rilasciare un Vignali in prestito oppure tenere solo perché è un giocatore che fa tre ruoli fa il terzino destro fa il terzo di difesa fa il quinto largo sarà un mercato in cui bisogna avere un po' di inventiva perché soldi non ce ne sono tantissimi e in cui bisogna cercare magari di andare in altri in altri campionati soprattutto lo si è visto nella nostra Serie A dove magari i tasselli giusti nei posti giusti possono fare la differenza l'ho fatto vedere il Milan per esempio con Mignani in porta che è andato a sostituire Donnarumma Donnarumma Mignani ha pagato meno di 15 milioni di euro eppure è uno dei migliori di partire della Serie A e scoprire nuovi talenti come Chiaia come Mutil so che con te apro una porta aperta Mario perché secondo me con Chiaia in campo il Como probabilmente avrebbe fatto i playoff e oggi ne stavo parlando proprio con Jack Gattuso allo stadio e secondo me a livello tecnico non ho visto un giocatore impattante e forte come Mutil anche lo stesso Mudo Vasquez che è fortissimo ha vinto l'Europa League ha fatto benissimo a Siviglia visto dal vivo contro un gran Como perché si è visto da Parma un grandissimo Como non ha fatto la differenza come mi aspettavo e come ha fatto Mutil in tante partite col Como ed è un peccato speriamo di ritrovarlo più forte abbiamo visto che era lo stadio all'ultima quindi speriamo possa fare poi ha detto che probabilmente sarà pronto per il ritiro ce l'auguriamo ce l'auguriamo sì perché davvero un fuoriclasse Jack Gattuso lo conosceva bene così come direttore Carlo Alberto Ludi e speriamo di rivederlo al top ecco come dicevamo prima di entrare in trasmissione con Uldoini è proprio una questione di calcio e nello sport di arrivare all'unimento giusto trovare un attore che ha fiducia questo giocatore che poi purtroppo si è infortunato dopo una quindicina di partite un talento fortissimo che precedentemente non era riuscito ad esprimersi perché era male si era utilizzato questo allenatore Gattuso gli ha dato massima libertà di esprimersi quindi il futuro di un giocatore dipende anche da voi allenatori giusto? sì sì dipende da tante componenti perché dipende dal dal giocatore stesso e dal lavoro che deve fare tutti i giorni dalla professionalità da non smettere mai di pretendere qualcosa da se stesso a migliorare le sue qualità e soprattutto poi dipende anche dal sistema di gioco dipende dall'allenatore dipende dalla fortuna ci sono tanti aspetti che però capitano anche lei a me questo giocatore piace a un suo collega magari dice a me non piace tanto sì sì chiaro ma è diverso poi c'è una scelta tecnica tattica possono essere tutti buoni i giocatori poi dipende da come si fanno giocare da che sistema hai però quando tu lo prendi ci vedi qualcosa azzeccatissimo è stata anche l'ultima scelta di Bryant sì sì infatti è stato perfetto in questo momento è un giocatore che ci dà una spinta atletica tecnica importante essendo giovane venendo dall'università è vero che ha fatto un po' di Finlandia però ci sta dando delle qualità che forse prima ne avevamo un po' meno ecco e Caglia cosa ne dici quando i primi giorni quando l'hai visto cosa ma sai vabbè i primi giorni sono sempre particolari nel senso non fai fatica a dare una valutazione su un ragazzo poi ripeto io vado a cercare altre qualità che esulano dal terreno di gioco sicuramente Mu è un giocatore avete dato tutto a voi importante e quasi unico per la categoria perché ne trovi pochi con le sue caratteristiche secondo me all'inizio dell'anno avevamo avevamo trovato come sistema di gioco questo modulo dove effettivamente era diverso la catena di sinistra era diversa rispetto alla catena di destra ognuno si divideva i suoi compiti quindi si cercava di trovare più equilibrio da quella parte cioè dalla mia parte a destra per caratteristiche mentre lui si attaccava con gli attaccanti e diciamo che le cose stavano andando molto bene però adesso a prescindere da questo per me ha avuto un infortunio molto grave molto pesante deve essere bravo in questi mesi per poter tornare appunto quello che era se non più forte di prima quindi l'importante è che il ragazzo sta bene l'abbiamo visto bene l'altro giorno era contento comunque è stata una botta anche psicologica che è una cosa sì e tanto è stato molto giù di morale quindi vederlo è la seconda volta che lo vediamo dall'infortunio perché comunque si sta recuperando in Belgio vederlo domenica è stato bello secondo me vabbè per noi ovviamente ma anche per lui sarà stato importante come spinta per cercare di fare sempre il meglio possibile lo aspettiamo sei pronto a scoprire come si muove adesso gli uomini in campo? esatto abbiamo le schede di Edoardo Colombo abbiamo c'è Alessio Iovine ma dove le trovate queste? va a fare delle dopo te le regaliamo ah ok qui è scritto come cittadella perché arriva fino alle partite delle cittadelle dove non hai giocato ma qua ci sono tutti arriva fino alla partita delle cittadelle ok ok ecco qui la zona rossa dove sei più presente però vediamo che ho fatto anche il portiere qualche volta anche c'è sei stato molte volte anche in aria anche in aria e molte volte sulla riga bianca vedi che Gattuso ti dice stai largo e tu vuoi dici io sto largo esatto però guarda quanto hai speziato effettivamente la tua faccia si viene benissimo qual è giusto? pensavo vabbè Bari Centra è comunque buono no angelo no anche quelli là sono i salvataggi sulla linea quelli sulla linea di porta presumo perché ne hai fatti un paio guarda lì sono bene quello sarà il gol a Crotone sicuro occupo l'area di rigore in maniera importante no sono assolutamente sì 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 fase difensiva guarda che ci sei l'area di rigore ci sei l'abbiamo chiamato Jolly speriamo che non avete i passaggi sbagliati eh qui c'è però noi diciamo ecco non diciamo niente allora grandi opportunità create otto è un po' pochina no e però ti dici conto che è il ruolo di attacco ma anche di copertura di attacco e di copertura di attacco e di copertura precisione dei passaggi noi abbiamo il 71% di precisione dei passaggi siamo bassi alti no direi sinceramente non hai una spero discreto nella propria metà campo non lo so sinceramente ecco però vedi come cambia nella propria metà campo l'83% nella metà campo Versaglia 58% quando c'è quando c'è la pressione è facile dare quando c'è la rifinitura del cross i cross molti sono finiti fuori dagli stadi quindi ci sta cross effettuati 23% di cross in percentuale generale mentre per quanto riguarda la difesa vediamo un po' falli da rigore due commessi anche perché c'è una cosa che volevo parlare appunto dei rigori dei falli di mano ecco esatto ti ricordi due rigori dove sei rimasto tutti e due in casa uno col crotone la prima di ritorno che non l'ho capito sinceramente cioè quello lì non l'ho capito avrei più da ridire nel senso che il giocatore cerca una giocata tu stai fermo io sto fermo probabilmente l'arbitro cioè lui cade ovviamente non simula non sto dicendo che simula l'arbitro dà subito il rigore secondo me col VAR saranno andati a rivederlo non c'erano non c'erano immagini che dimostravano proprio il non contatto il mancato contatto quindi ha mantenuto il rigore ecco quello lì mi lascia perplesso mentre l'altro comunque ogni anno cambiano le regole sui falli di mano mi ricordo cos'è l'anno scorso due anni fa che c'era la distanza se era troppo vicino era una cosa se era troppo lontano un'altra adesso non c'è più questa situazione vanno a vedere l'apertura del braccio diciamo rispetto al corpo se l'ha dato sicuramente c'è il rigore io ho cercato di anticipare il giocatore avversario contro la Ternana contro la Ternana ho cercato di anticipare Furlani in quell'occasione e nel girarmi per andare con il piede sinistro mi sono portato praticamente il braccio un po' alto però diciamo che è difficile perché qualcuno dice di mettere le mani dietro ma le braccia dietro ma se ti punta un ciaia diciamo che diventa è un po' complicato è più facile che cadi all'indietro mentre ti vieni puntato da un giocatore del genere quindi bisogna cercare di essere sempre attenti perché adesso poi ci sono questi strumenti che secondo me nonostante tutto danno una mano sì secondo me danno una mano devono essere utilizzati sempre il meglio possibile quindi più si andrà avanti più sicuramente cercheranno di ottimizzare il tempo di entrare più nel merito degli apparecchi delle apparecchiature e niente quindi si cercherà ecco di fare sempre il meglio possibile da parte nostra si deve cercare di essere attenti in ogni secondo della partita ecco ecco c'è da dire una cosa Gattuso veramente un grande signore in tutte le partite anche in situazioni difficili non si è mai lamentato con gli arbitri direi che è un altro segnale della serietà anche del como anche voi giocatori siete sempre stati sotto questo profilo molto attenti diciamo che non ci sono stati anche episodi particolari sì però sai ci sono stati alcuni fai per esempio ecco mi è piaciuto molto Jack il fallo a Parma sulla prima punizione non c'era sì il fallo a Parma è stato francamente strano ecco perché Bellemo comunque prende la palla esatto comunque si vede la traiettoria della palla prende la palla cerca di stopparla Bellemo invece arrivando con la punta prende anche il pestone da Vasquez che arriva leggermente dopo però sono situazioni dove che l'arbitro dà fallo e non è un rigore non è appunto non è un fallo da rigore quindi nel momento in cui ha dato fallo c'è poco da fare sì sì perché abbiamo visto allenatori di serie A per un fallo del genere che ha portato poi alla gola della propria squadra andare avanti un quarto d'ora a parlare per cui sicuramente quando finisce la partita non sei proprio lucidissimo quindi ognuno la vive un po' come la vive esatto io Oldoini voglio sentire c'è un'esagerazione nel calcio questi falli il VAR da noi no cosa da noi si mina da noi esatto più meniamo e meno fischiano quindi è proprio una regola non scritta ma è così quindi no io del calcio non non apro bocca perché secondo me quello che hanno messo anche il discorso del VAR ci sta è un aiuto quindi secondo me però questi falli di mano che i giocatori devono sì certo veramente deve essere proprio lampante perché se fa così lo tocca con la palla cioè mi sembra però purtroppo è la regola una cosa questa è una considerazione personale secondo me andrebbe andrebbe creato questo rapporto arbitro squadre soprattutto all'inizio dell'anno cioè noi abbiamo avuto comunque anche io dico fortuna in questi anni di aver avuto un incontro con un arbitro ogni anno all'inizio dell'anno comunque ci fa vedere dei video ci fa vedere delle situazioni particolari ci spiega determinate cose il regolamento è molto particolare ci sono le regole quelle principali che vabbè sappiamo tutti ma ci sono delle altre regole che secondo me andrebbero proprio studiate e quindi avere un arbitro che all'inizio dell'anno ti viene a dire determinate cose magari il fallo di mano quest'anno è così se tu ti muovi in un modo non è rigore se tu ti muovi in un altro modo è rigore già tu lo sai e impronti proprio anche il tuo movimento ti alleni perché comunque è sempre un allenamento in un certo modo invece non sapendo molte cose si vengono a creare anche situazioni di 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 tensione perché magari il rigore per me non è rigore quando invece il regolamento dice una cosa e quindi secondo me andrebbe fatto questa cosa anche perché ti faccio una battuta piccola esperienza da arbitro molte volte ci si lamenta dici fatto il primo fallo e mi ammoniscono ma se la squadra ha fatto sette falli consecutivi prima e tu sei l'ottavo giocatore che fa fallo vieni ammonito però sono cose giustamente che dovrebbero spiegare con il crotone in casa io pensavo di aver preso un rigore grosso come una casa perché c'è il difensore che si butta per terra e la palla carambola sulla sua mano sul suo braccio ma il braccio è completamente spostato non è attaccato al corpo io ero sicuro l'arbitro è andato al VAR sicuro della decisione del rigore invece non era rigore perché se il giocatore appoggia la mano per terra lì ti devi appoggiare nel terreno di gioco non è rigore questa cosa non la sapevo e la squadra ovviamente noi siamo andati tutti contro l'arbitro così se all'inizio dell'anno l'arbitro ti spiega questa situazione qua probabilmente nel momento in cui succede sai già che non è calcio di rigore bravissimo è un esempio che faccio ma ci sono veramente tanti su situazioni proprio più piccole iniziamo a parlare delle prossime gare di Como e Cantù a Pasquetta c'è Pisa-Como vediamo i precedenti con Enrico Levrini come Pisa nella loro storia si sono incontrati 25 volte 17 volte in Serie A e B il bilancio in trasferta è favorevole ai pisani che su 12 partite giocate all'arena Garibaldi ne hanno vinte 4 pareggiate 6 e perse solo 2 la prima vittoria a Pisa risale a 42 anni fa quando nel campionato 1970-1980 si vinse per 1-0 con un gran gol di Marco Nicoletti una vittoria fondamentale che ci lanciò verso la Serie A nella partita di andata gli azzurri persero per 1-0 per un autogol di Scaglia tra i numerosi ex giocatori che hanno giocato con entrambe le maglie troviamo Davide Di Quinzio al Como nella stagione 2016-2017 e l'attuale bomber dei Toscani Ernesto Torregrossa al Como nel 2012-2013 questo è l'altro sul Museo del Como e sempre Forza Como eccoci in studio continuiamo con le vostre domande da casa per Angelo Giacomo dice che quest'anno ci sono mancate solo le telecronache di Angelo Taglieri perché non si candida per Elbit o Sky per l'anno prossimo per le gare del Senigallia? perché sto benissimo come tv se vuole ascoltarle può andare su Mola chiaramente qualche giorno dopo perché Mola non ha i diritti per vedere le partite in diretta della serie B e può ascoltarle tranquillamente e niente grazie sono contento e invece Riccardo chiede se gli speciali con l'intervista e i tifosi torneranno su Como TV ma su Como TV ci sono tante cose in ballo e tornerà un po' tutto chiaramente la squadra non è che sia rinnovata però la squadra è diventata un po' più continua rispetto alla scorsa stagione quindi stiamo facendo un po' di cose nuove per esempio non abbiamo mai intervistato Alessio Jovi quest'anno già questa è una novità però si tornerà tornerà un po' tutto dal behind the team che stiamo girando quindi abbiamo intervistato preparatore atletico del Como e quindi lui ci racconterà un po' dietro le quinte di questi ragazzi come lo trattano di come lui tratta soprattutto loro da chi lavora anche nel settore commerciale per far capire un po' come funziona tutto il Como e poi arriverà anche i tifosi poi magari con qualche sorpresa nel film finale della stagione invece io merito a questo volevo chiederti da telecronista qual è la partita che ti è piaciuto commentare di più? rispondo io rispondo tu come Alessandri però come Monza anche però come Alessandri ha il suo fascino perché io in realtà non ero ancora entrato nella famiglia come TV quindi l'ho vista molto più da esterno perché ero per Eleven Sports però chiaramente l'importanza della partita era come fosse una finale per me di Champions perché non avevo mai raccontato niente di così importante e quella è stata sicuramente la partita più bella e poi per Mola ho commentato un'Argentina-Brasile che non si è giocata perché c'erano i positivi in campo e quindi era successo un po' di caos la famosa partita esatto io mi ero preparato tantissime cose ho parlato mezz'ora di niente però è stato formativo ti diamo la possibilità di fare una domanda a Iovine? Alessio Iovine è tosta e gli volevo chiedere se si immaginava di poterci stare in questa Serie B sì sì perché comunque non ho pensato tanto nel senso è finita la stagione l'anno scorso con la promozione quindi ci siamo trascinati comunque una gioia grande per giorni per settimane ed è riniziata la stagione però la stagione nuova dava motivazioni nuove motivazioni grandissime perché era categoria nuova e tutto e quando sei là anche nasce in te quel pizzico di orgoglio dove vuoi far vedere che comunque tu ci sai stare e anche con gente che ha avuto un curriculum ha un curriculum diverso dal tuo e ha fatto una carriera diversa dalla tua ci puoi stare quindi ero abbastanza no ero ovviamente carichissimo e mi aspettavo che erano la percentuale del sì ci può stare era più alta diciamo del no fallirò e il gol ti ha aiutato alla prima? il gol siccome non è una cosa che per cui vivi per cui vivo non sono un attaccante è sicuramente bello è stata un'emozione comunque importante però non è che mi godo tanto il momento del gol mi piace veramente di più magari mettere mettere in porta un compagno di squadra proprio per il ruolo che ho quello che comunque ogni tanto azzecca il cross magari per il compagno quindi la palma quattro esatto sì quindi mi piace di più ecco vedere quello vivere quello piuttosto che un gol ovviamente però è stata una cosa bellissima continuo con un commento da casa che c'è Riccardo che ci fa notare che casualmente l'arbitro di Crotone è quello di Sabato che si è inventato il secondo giallo di Solini no vabbè no non guardiamo queste cose quindi anzi ritornando al discorso di prima anche l'arbitro cioè conoscere un arbitro le partite che ha fatto i cartellini che ha dato i rigori che ha dato che tipo di arbitro è con cui uno con cui puoi avere un dialogo piuttosto che uno che se la prende queste cose influiscono in maniera importante secondo me e diciamo che non siamo molto preparati ecco su queste situazioni qua quindi è semplicemente capitato non crederò mai che un arbitro veda una squadra in un certo modo rispetto a tutte le altre e invece cambiando argomento ti sarebbe piaciuto continuare gli studi dopo le superiori e cosa ti sarebbe piaciuto fare? no sinceramente allora spero che spero che i miei genitori non stiano guardando no diciamo che allora mi interesso di molte cose mi piacciono molte cose a scuola sinceramente ho sempre fatto fatica a seguire molte molte materie delle quali non mi importava francamente nulla ecco e quindi non ho mai pensato a un dopo mi sono sempre dato come obiettivo il diploma e poi ho sempre pensato tanto io gioco a calcio poi ho avuto sono diventato professionista a 22 anni quindi non prestissimo è andata è andata come è andata però ecco non ho mai pensato di andare avanti grazie prensiamo la la sincerità poi ha un futuro in tv esatto poi cosa vorresti fare? cosa vorresti fare? bene ovvio che adesso non ci pensi è difficile perché ogni giorno mi sveglio e dico ok adesso farò questo adesso farò quell'altro no non lo so in ritiro a Bormio hai già fatto spettacolo però infatti la società dice quando c'è da da fare un po' di di cinema chiamano me non è un caso lo special guest per Blanco eri tu esatto tra l'altro il futuro in ComoTV io glielo ho detto che voglio fare commento tecnico di Alessio Jovini questa cosa che ha detto Angelo comunque in parte è vera diciamo che a me è sempre piaciuta questa parte il ruolo che ha Angelo sai quando sei piccolo giochi alla Playstation a FIFA piuttosto che fai la telecronaca penso che quasi tutti i bambini abbiano iniziato in questo modo a me è sempre piaciuto poi solo pensare di andare a prendere le statistiche di ogni singolo giocatore vecchi confronti mi piace questo mondo mi piace ecco ecco il giorno lavoro assicurato e invece una domanda per Massimiliano Luca Mariani chiede se sai il perché se c'è un perché del rendimento tanto un divago quindi un po' altalenante di Jordan Baie ma sinceramente sai alcune volte non dipende nemmeno dal giocatore stesso ci sono delle problematiche come possono essere i falli dove alcune volte prima si parlava di arbitraggio vengono chiamate delle situazioni che oggettivamente non ci sono quindi poi nella partita dopo due minuti fai due falli ecco lì che mentalmente puoi calare oppure puoi perdere la concentrazione questo ma se no il ragazzo mi sembra che abbia fatto una buona stagione anzi ultimamente ha fatto un buonissimo lavoro anche individualmente e quindi penso che poi un giocatore quando si allena cerca sempre di fare uno step verso l'alto e lui in questo momento ma anche come gli altri ragazzi sono professionisti veri e ci tengono sempre a fare il meglio possibile massimiliano prossima partita di Cantù sabato a Fabriano contro l'ultima dell'altro girone sì guardare la classifica lascia il tempo che trova nel senso che sono arrivati gli ultimi bisogna analizzare un po' la stagione intera di questa squadra dove prima erano giocavano ognun palasport poi sono immigrati un altro poi ancora ognun altro ancora poi le problematiche fisiche poi il covid così il cambio dell'allenatore sono state tanti problemi però è una partita che non va presa sotto gamba ecco facciamo l'ultima pausa di 15 secondi poi di nuovo in studio rieccoci in studio parto subito con una domanda da Alessio io sono super tifosa del Como vengo a vedervi e ho visto anche l'ultima partita che ho visto al Senigallia è stata Momoncia emozioni bellissime però io so che tu sei un tifoso della cosa Bernardo Cantù e qualche volta vieni anche a vedere le partite da dove è nato il tuo amore per questa squadra allora il mio amore è nato perché ho fatto il Sant'Elia Cantù e quindi in prima superiore quando ho conosciuto nuovi ragazzi molti erano di Cantù soprattutto uno Daniele Sironi vabbè che so che ogni tanto segue anche il programma mi hanno mi hanno invitato a vedere le partite di Cantù al pianella ovviamente erano altri tempi c'era una squadra bellissimi al pianella sono riuscito a vedere Stone e Rook per dire vabbè Mazzarino è stato tanto tempo poi l'atmosfera pianella l'atmosfera cioè il fatto che comunque ogni canestro viene giù viene giù il pianella mentre allo stadio cioè a calcio se finisce 0-0 sì c'è quella l'occasione piuttosto che però questa cosa qua a me aveva proprio lasciato secco e quindi da quel momento lì ho iniziato sempre a seguire le vicende poi ovviamente nei tempi durante la scuola riuscivamo anche riuscivo ad andare a vedere qualche partita avevo anche un vicino di casa dei miei genitori tifosissimo quindi trovavamo i biglietti venivamo venivamo su e da lì mi sono appassionato però vabbè ovviamente adesso è più bello perché prima magari conoscevo poco un'altra cosa che mi mi lasciava quando vedevo tutti i tifosi che si alzavano a chiamare i passi e io non capivo mi dicevo ma no ha fatto una cosa normale quindi adesso diciamo che riesco con l'occhio un po' più attento e riesco a capire anche certe certe dinamiche e a proposito di passioni Angelo dalla tua passione per il calcio e dal tuo amore per la scrittura è nato un libro ce ne parli? sì adesso deve uscire uno nuovo però si è nato Generazione Fantacalcio che è un romanzo un po' che parla di un gruppo di amici che cresce intorno alla passione per il pallone due di questi non si parlano più si ritrovano dopo dieci anni alla sera dell'asta del Fantacalcio e niente si scoprirà il perché non si parlano più con dei continui flashback richiamando ovviamente situazioni calcistiche poi hanno scritto un altro sul Vicenza della Coppa delle Coppe che ha affrontato il Chelsea di Dennis Wise in semifinale e lì è una storia un po' differente perché ho fatto un po' cronaca un po' intervistato da Ambrosini a Zauli a Mister Guidolin tutti gli ex giocatori del Vicenza anche Gianfranco Zola perché era un po' l'emblema di quel Chelsea e raccontiamo quella cavalcata del Vicenza non sono di Vicenza non ho mai ti fatto Vicenza però spesso noi in Italia andiamo a cercare delle storie all'estero bellissime in Argentina in Sud America in Spagna però anche in Italia ci sono tante belle storie da raccontare secondo me questa era una di quelle e come sei nato giornalista? per caso tanti ragazzi sognano di fare il tuo mestiere il vostro mestiere ma non è facile nasco bibliotecario in realtà quindi amavo leggere le storie e non raccontarle e poi per caso è nata la possibilità di collaborare con un sito che parlava solo di Milan inizialmente quindi ho iniziato con loro poi calciomercato.com sei anni nel frattempo la possibilità di fare le telecronache e il MSports ti affila a una squadra e a me mi ha messo insieme al Como e è andata bene perché poi sono andate tante opportunità e da Mola conoscerò Alessio Iovine prima prima Giannerminio prima Giannerminio esatto quando Ale giocava anche alla Giana e continuo a farle anche adesso quelle di serie C perché mi diverti in realtà non sono mai andato a fare l'Ecco me l'hanno chiesto non sono andato a farlo ma sono andato a fare la Gianna il Seregno quindi la Processo quelle qua qua in zona perché comunque quella delle telecronache è una passione come diceva Alessio prima la Playstation tutti magari abbassavano il volume e facevano le telecronache poi una cosa una delle prime cose che noti quando vai allo stadio per la prima volta è che non c'è la telecronaca e quindi quella cosa mi è un po' rimasta a quella mi spiazzavo un po' ho detto ma la voce che racconta la partita non c'è quando ero bambino quindi quella cosa mi è rimasta un po' dentro e quindi è nata questa cosa qui ecco Alessio volevo mandarti visto che è stato vedere la pallacanestro ma ti immagini giocare in quel casino come fanno tu per esempio non senti il pubblico ci sono giocatori che mi dicono che non sentono niente in fattori esterni no quello è vero cioè quello è vero nel senso comunque quando inizia la partita si senti riesce quasi tutti riusciti a proprio si almeno personalmente è così poi magari anche non lo so sono tanti anni le tante partite che ho accumulato che mi permettono di pensare solamente a quello ma delle volte scherziamo anche con con i compagni di squadra ad esempio con Vignali che magari c'è un coro che ci piace mentre giochiamo lo cantichiamo ma sono cose cioè ognuno se la se la non so come dire si gioca la partita anche prima nel prima del match in un certo modo però ad esempio la partita di settimana scorsa con Monza è stato è stato bellissimo ovviamente deve arrivare anche il risultato per creare l'atmosfera giusta però è stato veramente la spinta dei tifosi la sentite assolutamente io ti faccio l'esempio quest'anno tra tutte le partite l'ho sentita bene durante Como Parma che abbiamo preso qualche calcio d'angolo non abbiamo tirato un po' cioè Buffon non ha fatto grosse parate però hai preso qualche angolo dopo aver sbagliato il rigore sei passato in vantaggio hai cercato di creare qualcosa e ogni volta che si arrivava comunque sotto la curva perché al secondo tempo si è giocato di lì sentivo proprio il boato la voglia anche del pubblico di spingere verso il risultato positivo delle volte lo senti di meno delle volte di più e niente così bello siamo in chiusura facciamo qualche pronostico io volevo chiedere un pronostico chi va in Serie A lo volevo chiedere ad Angelo e anche agli uomini unice rituale vediamo chi c'è a zecca però allora io penso che in Serie A ci vanno il Lecce il Monza mi sa che potrebbe essere l'anno giusto del Monza poi il playoff ah beh il playoff è difficile sono d'accordo con Allen parlavamo anche già al lavoro Lecce è secondo me la rosa proprio più forte della categoria ed è già strano che non sia in fuga Monza non può più procrastinare non può più andare troppo in là cioè ha fatto tanti investimenti l'anno scorso deve per forza anche andare quest'anno mentre Massimiliano quattro nomi di quattro squadre due vanno due vanno in Serie A fai quattro nomi mi auguro Cantù e poi secondo me Udine quella rispetto a Verona e a Scafatti è quella più più attrezzata ultimissimo ma avete pronuncio segato due squadre io Lecce è sempre piaciuto e il Monza dove il Como ha fatto grandi risultati perché con Lecce non ha perso Monza l'ha battuto al ritorno all'andata stava pari era strameritato quindi un Como che sembra un discorso da bar però ma anche il Como è una grande squadra diciamo cosa ne dici Angelo cioè non sono discorsi da bar perché no perché il Como con le grandi squadre ha sempre giocato quelle grandi squadre sulla carta ha sempre giocato bene se tu aggiungi quei quattro punti che mancano a Lecce di fatto è praticamente in Serie A ma anche con lo stesso Parma che al di là che diciamo non sta rispettando quelle che erano le attese hai giocato alla grande anche al ritorno hai fatto una bellissima partita col Monza hai fatto una bellissima partita col Pisa hai perso solamente 1-0 per un gol deviato è un Como che ha sempre giocato alla grande forse l'unica partita con le top che non hai giocato benissimo è con la Cremonese però erano tantissime assenze mi sembra che ha giocato alla centrocampo giusto con la Cremonese non c'era Capitan Bellemo per far capire come era quella partita che faceva un po' storia a sé però per il resto è un Como che con le grande si è sempre giocato perché evidentemente quando magari ha più campo per attaccare poter andare in verticale è una squadra che sa far male e lo ha dimostrato anche nell'ultimissima partita ci sono ancora domande da casa sì da casa nel frattempo si commenta sul futuro di Alessio però sono d'accordo dicono che dovresti fare lo showman perché sei troppo simpatico grazie quindi potreste avere un futuro magari c'è qualcuno che mi offre mi offre l'ingaggio ma hai tanti amici a casa eh eh lo so lo so vabbè ma perché appunto sono mi conoscono tanti quindi sono avvantaggiato e invece chiedono a Leo Angelo se c'è ancora la scaramanzia della tuta verde ma questa la sei tu a cosa è la tuta verde? no che penso penso si riferisca a Facchin diciamo che è un po' scaramantico sì 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 c'è ancora questa cosa qua cioè la racconti o no? no semplicemente guarda anche queste cose quando quando giochiamo con con una certa divisa con il colore anche del portiere visto che i portieri hanno tre tre divise diverse lui parla con con Nicola il magazziniere gli chiede magari quando è possibile ovviamente perché poi ci sono anche gli avversari piuttosto che di giocare con con la divisa verde che è quella che li porta e la maglia nera allora anche? eh la maglia nera non noi vabbè noi pensiamo a giocare però abbiamo anche noi letto questa questa cosa qua e sì però il giusto se inizia a giocare sempre ovviamente non poi la magia quindi esatto la magia viene persa quindi bisogna cercare di centellinare nelle partite giuste quelle che che servono bello la parola magia i tre i tre punti bene allora siamo veramente in chiusura ringraziamo Alessio Iovine Angelo Taglieri Massimiliano Aldoini per essere stati qui con noi stasera grazie a voi per l'ospitalità ringrazio anche Serena Mario e Riccardo e tutti voi da casa che avete commentato ci avete seguito vi auguriamo una buona Pasqua noi a Pasquetta non ci saremo perché saremo anche noi in vacanza però ci saranno Mario e Riccardo da Caffecchio che seguiranno Pisa-Como Pisa-Como una bellissima partita e vediamo ah e la Zaroni quindi esatto e giorno di festa vabbè ci sta esatto si guarda la partita come una costina esatto 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 buona grigliata a tutti e buona Pasqua buona Pasqua buona Pasqua